Avvicinando e sta soppassando il muro di sedie, ma raga, passate in mezzo alle sedie, venite vicino a noi più vicini siamo, più ci divertiamo, come vi ho detto prima fuori campo tanto sauna per sauna, tanto vale farla bene quindi raga, ed è qui, vestito da Ferrero Rocher, come sempre, non da solo ma con la lungimirante assistenza del pacco famiglia ci piacerebbe portarvi con noi in un grande viaggio questa volta faremo un po' una scaletta che si chiama random ovvero in dialetto adminchiam e tutti rimangono, come sempre, molto favorevoli vero maestro? Certo, certo, certo però in questo istante ci piace portarvi con noi in un viaggio nella disco music degli anni 50 partiremo dagli anni 50, andremo ad oggi e poi ripartiremo di ogni anni 50 e ci veniremo vicini qui d'attenzione, mani, 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 mani dai dai, entri voi seduti, dai, dai, su, che si inizia a far casino subito dai, 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 mani, 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 mani 1, 2, 3, 4 Raga, abbiamo fatto così, vai insieme, 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 insieme Stop! Ma negli anni 50 era questa, negli anni 60 invece faceva così Attenzione! Facciamo sei metri E ci scambiamo l'amore profondo Quando ci fai più alto e il mondo Scambiva più sì Stop! Attenzione raga Negli anni settanta invece si faceva così Apro gli occhi e ti penso Edo in mente te Raga, la vostra voce che fa? E cominciamo a ragionare raga Insieme Oggi va Oh 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 Edo in sera Edo in no Ma, ma, ma Ma non nos sarà Vai, vai, vai Non può essere so tanto una prima vera Tu sei mia Tu sei Tu sei mia Tu sei mia Fino a quando Fino a quando Gli occhi miei Avrà luce E per guardare gli occhi di tuoi La vostra voce Edo in no Edo in no Sempre Grazie a tutti